VINCENZO solo armi viola si si solo armi viola raga con Neymar perchè è un mio amico ha deciso così però però solo attenzione raga Bissing mi c'è stato fuori da canale no raga allora faremo solo la challenge solo armi viola e non scherzo per trovare questa armi viola non è uno scherzo non è una cosa allora raga sarà più difficile ma come se l'hai fatto ecco raga 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 mi ricordate i vecchi tempi? scrivetemi i commenti i vecchi tempi dove c'era Neymar raga dove facevamo un botto di live e facevamo zero spettatori spaccati bluh 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 infatti faceva cagare bluh eh l'ora dove facciamo le live a proposito raga mercoledì e venerdì ci trovate in live quindi cosa aspetta? ho trovato un'arma blu che posso semplicemente potenziare in arma viola dove è? dove è il potenziatore? come si chiama la potenziatore? raga non so giocare raga non so giocare non è buona raga sono un problema vincenzo non sa fare una bibbe vincenzo non sa fare una bibbe ehm 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 si perchè ehm si si ok ma non ce l'ho viola eh beh non ce l'ho mai capace a te raga ma me li devo fare a piccone per caso raga ma li devo fare a piccone per caso raga ma li devo fare a piccone per caso vende qualcosa di ora vende qualcosa di ora no si la vende vai io mi tengo il pomo a sempre per potenziale a no mi sono fatto la scorta di metraglietta tengo 294 colpi di metraglietta tengo 294 colpi di metraglietta ma per la cortesia ne sono due ne sono due un abbandonato mi devo occupare raga non ci sono molto raga sono raga sono raga quando che l'ho fatto io mi sono io mi sono 4 5 raga ma dove basta se devi stare a metraglietta vabbè già si sapeva eh vabbè la nuova non è che mi piace tanto ci sono sparati che è stato una cassa è una cassa sopra e io vorrei precisare se sono del pippone che ci hanno fatto scappare prima Junior ti ricordi quel ciclo? Ma stavano timando Io ho visto due Io ho visto due persone Junior ma perché te ne vai solo te? Raga ovviamente quanti gli spari me valgono Che hai detto Vigi? Te ne sembra solo tu? Eeeh Sono intelligente Ma cosa sono intelligente? Ma io non ti do i mini Già no 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 Aspetta mi devo fare la snotta Ho visto quanti gli spari me? Tu che ce l'ho? No io no Quello io dove lo trovavo Ah beh i motivi li prendo io Quali? Quello no Ma io ho trovato io aspetta Però ce ne sono altri Aspetta tu non prenderli ancora Eccomi vai prenditelo Io ne ho trovato un altro Qua Qua E' lì E' lì Raga io tengo Tengo il pompa ma non lo sto usando Ve lo dico Non lo dico Perché mi pensavo che si poteva E poi mi pensavo anche da qui Io mi pensavo che si poteva potenziare Tipo un pavero non lo trovo Eeeh Eeeh Ragazzo non ne hai mai Ma trasformati Bravo Vai Ragazzo non pro player a usare i guanti Me ne vado la Perché? Perché io l'ho andata E vai la Eeeh E' ma festa Guarda io tengo il pompa solo per potenziali in viola Perché Ma tu tieni l'arma viola Tu tieni l'arma viola E basta E' bravo E' bravo E' bravo E' bravo E' bravo Raga Com'è possibile che non c'è il potenziatore Come si chiama E' sembra che l'hanno tolto Eeeh Si l'hanno tolto No Non l'hanno tolto E' impossibile Ma non mi ricordo manco Raga E' cercato su Google Raga Google Google è la La roba che è certa per dare informazioni Mi ho quasi ci sono io E' la vinci però Non pensavo Eeeh Non pensavo Si bravo proprio Eccolo Raga E' cosa che potenza E' così No No Cavolo Non è strutturato E' il KMK7 Che posso farmi la viola Si Io me lo so Volendo che appassi il piano Io mi sono preso Ma l'ho preso Ho spiegato quasi tutti i lingotti per farmi E me l'ho preso Vai raga Ma l'ho so fatto Mi l'ho so fatto viola Ma io te non stiamo Aspetta Mi puoi fare il fondo Ma come c'è Oh Io mi puoi fare il fondo Apri Ok E non prender film Allora Allora Ma io l'ho preso Ma io l'ho preso E' uguale Come il Tieni No 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 Non più gli alchimere Vai Va bene Ma tengo Però Ma tengo Non tengo Tantissimi Lingo Ok Guardate Guardate Sì Sì Mi l'ho so fatto Ma Preghio Preghio Io Sola Preghio Perché Se piango L'ho fatto Questa Roba Ma Aspetta Ma Non c'è Ma Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Andiamo con la macchina Che vola La facciamo volare Oh Eh sì Vabbè Oh Oh Era la prima persona Ho visto la prima persona Non c'è Aiuto Pionio Ho visto la prima persona Esci dalla macchina Sei uscito Eccoti Dorothy C'è una casa rotta Sicuramente spazzata Dal tornato Raga Siamo messi bene Perché In fondo Abbiamo solo le armi Viola No Porco Viola No 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 Ce la siamo comprati No Ce la siamo Ok ah sorgesana sponsorizziamo la sorgesana ok allora di di culo allora di di culo poi mi sono messo con la di me, ma hai visto, hai visto, hai visto come nel genito mi era meglio e appunto, jump là mi potevo attaccare a sto qua 4 io 3 3 raga ha risposto dopo 3.000 armi allora per fatti capire, vediamo se quanti funzionano sulle armi sicuramente si ah ecco ma, quindi se io prendo ma non si, non si ne vedevano manco gli utilizzi la gente sicuramente è la andiamo all'entro, andiamo all'entro, perché secondo me qua viene la gente e no a me stanno a 42, voi mi dirate che sono scaricati no, ci sono scaricati e penso che si vuole ricaricare quando ti fa, ci vuole qualcosa di forte ah un po' quanto ti dirai i guanti un po' quanto ti dirai i guanti 32 però io 32 me ne vado ci sono i combacchi ci sono i combacchi ma bruciano tu copri 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 già c'è gente no no tu so mi dame mi dame venti venti c'è stato il bianco eh no andiamo con i guanti come il problema venti tre shotato però c'è anche una Lamborghini bravo la me la fatta e selezionare a me da me di un uomo a me di un uomo a me di un uomo a me di un uomo no io mi ne vado perchè come perchè guarda quanta vita vengo e mi sparano pure e mi sparano pure ma tu dove vuoi stare qua? no vai raga paura paura ma te li manco la mia scheda eh infatti non la posso prendere lo so la safe è piccola guarda guarda lì mi manca la mia scheda è infatti vai a trovare la scheda aspetta guarda mi sa non c'è guarda lì vai in giro a trovare la scheda quindi lei troppa che non troppa qualcosa oddio scappa 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 aiuto oddio io ve la campero junior io ve la prevedo che fatto oddio oddio non c'è niente non c'è niente vinci non c'è niente uuuu vai scappa vinci scappa scappa oddio 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 ah vinci vinci no raga vinci è sparito vinci Vinci Vincenzo è sparito Vinci Dove è andato Junior Si Si è tornato in lobby Ha finito il video Si è tornato in lobby Ha visto quello che è successo raga Che detto Vabbè raga Vincenzo è Oltre le cuffie le bove Andare a fare i pipi Oltre le cuffie le bove Bella Andare a fare i pipi